...ruote anti-foratura che garantiscono stabilità e sicurezza. Altra cosa molto pratica, le batterie si possono facilmente rimuovere dal corpo... ...facendola diventare uno spazio vivace e colorato. Recuperate, restaurate, riparate e ridecorate. Tutto diventa facile e veloce con Total Painter. ...e non fa macchie. Non avrei mai... ...con un pennello e un rullo. È stato fantastico. ...la potenza e la velocità e la versatilità di passare...